In questo momento è necessario riaprire a una viabilità totale, anche i mezzi pesanti. Ovviamente se non dovesse passare più di questi 30 giorni di cui abbiamo parlato per la riapertura, noi valuteremo a un tavolo di governo, con il Ministro Di Maio, con il Presidente del Consiglio, anche per le necessità fatte dal territorio e dall'impresa locale come aiuti. Non possiamo dimenticare un territorio come questo, danneggiato da una chiusura di una tratta stradale così importante. Erano queste le parole del Ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli nel febbraio scorso in visita al cantiere del viadotto Puleto sulla E45, chiuso per rischio crollo e adesso in corso di manutenzione da parte di ANAS. A distanza di quasi due mesi non solo la E45 non è stata riaperta al traffico pesante, ma adesso arriva anche il diniego da parte del governo rispetto alla richiesta di stato di emergenza presentata dalle tre regioni, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, per ottenere un risarcimento per le tante attività economiche cittadini che stanno subendo danni importanti per questa chiusura. La richiesta che era stata fatta dalle tre regioni, che tra l'altro si sono fatte carico anche di anticipare un primo intervento nei confronti delle situazioni di maggiore criticità per salvaguardare anche l'occupazione dei dipendenti che rischiavano di perdere il posto di lavoro, aveva poi bisogno di un proseguo della dichiarazione dell'emergenza nazionale con un intervento del governo che tra l'altro in altre realtà del paese invece è accaduto. Abbiamo questo diniego e lo abbiamo anche con motivazioni, come dicevo, sorprendenti perché si dice che era forse un evento prevedibile, causa la scarsa manutenzione, come dire che il Presidente del Consiglio sferra un attacco nei confronti di un suo ministero. Però queste sono questioni che si vedranno loro, noi speriamo anche attraverso l'azione dei parlamentari di tutti gli schieramenti politici e soprattutto quelli che sostengono il governo possa essere recuperata una situazione che altrimenti lascerebbe una ferita ed un disagio veramente profondo in un territorio che è un territorio abituato a soffrire, abituato a lottare ma che in questa occasione avrebbe veramente bisogno di un'attenzione maggiore. Sarà infine svolto il prossimo 11 aprile il sopralluogo del consulente del GIP del Tribunale di Arezzo il professore Claudio Modena sul viadotto Puleto. Lo scorso giovedì infatti il maltempo aveva fatto slittare l'ispezione. Solamente a seguito di questo passaggio ANAS potrà riprendere i lavori di sistemazione sul viadotto per andare così verso la tanta attesa riapertura del tratto al traffico pesante.